L'ortica dalla casa e dal giardino si sposta per questo mese di luglio, in questo inizio d'estate, in libreria. Anche perché l'intenzione è proprio quella di aiutare, offrire uno stimolo, suggerire di leggere durante quest'estate almeno un libro. Un libro di avventure, un giallo, un libro di storia, un libro di geografia, un racconto, una fiaba, un libro di poesie, qualsiasi possibilità di incuriosirci, di approfondire, di pensare, di essere aiutati a sognare, ad avere una visione, ad informare un po' il cuore e a formare un po' la mente, in maniera tale che la lettura sia davvero un esercizio di umiltà, di passione, di emozione, di invenzione. Ecco, questo è un po' l'ortica di questa domenica. Aiutare a leggere, perché per quello che io capisco mi pare che leggere sia molto più importante che saper scrivere o saper parlare. Saper leggere vuol dire anche ascoltare, vuol dire trovare spazi per essere più umili e più disposti a una curiosità sana per tutto ciò che ci succede e la lettura che apre la testa, che apre il cuore, che apre la mente, fanno sicuramente bene. Un bel libro, un buon libro, un libro che ci piace, un libro che vorremmo aver sempre letto e che è ancora lì nei nostri desideri, provare a fare un passo, avere il coraggio. Buona lettura.